è arrivato il momento di scoprire la nuova Evo 6 qui da Autorbanese a Siderlo lo so che non dormivate la notte quindi siamo quasi pronti tra un minuto il nostro direttore generale qui Mimmo è pronto a scoprire la macchina aspettate meno di un minuto la scopriremo e il suo momento e il suo giorno e la sua serata Ladies and gentlemen Madame MS All it's for you Mr Evo 6 Vai in ritmo Su le mani, su le mani Applauso ragazzi Vi non bacia le mani, lo fidanzo a mio domani Su le mani E la sua serata è che la sua esperanza La sua serata è che la sua serata è che la sua serata è la sua facciamo un applauso Vivo Vese è proprio il momento di sapere la cortesia meno 5, 4, 3, 2 1, signori, signori è Vosei Varevino, steppa applauso, applauso Sfumani Apoi, prego, prego Cinzina Aguri, viva Aguri E voi, Alvorconese! E voi, Alvorconese! E voi, Alvorconese! E voi, Alvorconese! E voi, Alvorconese!